Io amo Napoli. Napoli va presa come una città unica, non la possono capire tutti. Adesso guardate qui, questo è un bel paesaggio, ma che lo vogliamo confrontare? Ebbene sì, Napoli e il cinema condividono la bellezza eterna, ma non solo. Nascoste tra le vie di Napoli, richeggiano le forme e le geometrie del cinema muto. In queste due foto abbiamo uno sfondo caotico, elementi in movimento e come protagonista assoluto, il bacio che ferma il tempo. Lo sguardo resta bloccato tra i margini di questa cornice e dello scorcio, che ci indica l'evoluzione della storia. Le diagonali in salita conferiscono alla scena un aspetto sacrale e grandioso, esaltato dallo sfondo bianco, mentre qui la composizione piramidale crea un'immagine di stampo epico, iconico, creando una sensazione di grandezza e ascensione. Così come la prospettiva dal basso di queste due inquadrature rende l'immagine di forte impatto. In questa inquadratura di Metropolis, invece, lo sguardo viene catturato dal contrasto non solo tra le luci, ma anche tra le linee squadrate e arcate, che donano all'immagine profondità e dimensione. Infine, la linea dell'orizzonte divide la scena in due per accompagnare lo sguardo dell'osservatore verso il simbolo eterno della città, il Vesuvio.